Il brano di oggi, che conclude la catechesi di Giovanni sul pane di vita, si apre con questo interrogativo. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Era l'obiezione che i giudei rivolgevano i cristiani che a loro volta si chiedevano ma sarà poi vero che nell'Eucarestia c'è Gesù e in che modo vi è presente? La domanda è lasciata senza risposta perché l'Eucarestia è un mistero della fede e un mistero lo si accetta per quello che è. La domanda invece segue una dichiarazione formulata in termini di fede. In verità vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avrete in voi la vita. E di quale vita parla Gesù? È la vita divina, è la nostra vita che si confà alla sua e che ci trasforma in noi. Buona giornata.